Buongiorno, dottor Quattrin, autore del Magico Patch. Allora, siamo arrivati alla fine di questo evento. Siamo arrivati all'adunque. È stata veramente una iniziativa ben condotta, con un risultato assolutamente lusiniero e siamo felici di tutto questo. Effettivamente un successo incredibile, quasi 400 racconti avete dovuto vantare voi della Giulia. Come avete trovato la qualità media? È stato difficile, proprio perché la qualità a livello medio è stata assolutamente, assolutamente, positivo. Le tematiche sono state svolte in modo più o meno completo, ma comunque tutti i bambini hanno capito lo spirito dell'iniziativa e lo spirito del personaggio. È stato veramente fantastico vedere tutti questi bambini buttarsi anche con grande passione nella scrittura, vero? Assolutamente. I bambini sono una fonte di creatività inesauribile. E basta lasciarli volare e loro volano con la fantasia e la creatività. Sulle ali del nostro magico patch. Assolutamente. E anche grazie alle insegnanti che hanno potuto naturalmente trasmettere il senso del personaggio. Grazie mille! Bene!